Buongiorno a tutti, mi presento, sono Fiorella Frailis, sono una consulente della Zepter. Qui a fianco a me c'è la signora Luisa Padolano, collega nonché esperta in prodotti cosmetici. Siamo qui oggi, grazie innanzitutto per la vostra presenza, per far conoscere l'utilità del Bioptron in sinergia con i prodotti cosmetici che la Zepter produce. Adesso vi facciamo vedere un breve video per farvi capire cosa fa il Bioptron e poi procederemo ad un trattamento cosmetico. Buona la terza. Questa caratteristica è in sé. La fototerapia Bioptron, approvata dalla medicina, clinicamente testata, un sistema medico rivoluzionario che aiuta a prevenire le malattie, riabilitare, curare, combattere la depressione e ritrovare l'energia necessaria alla vita quotidiana. Assolutamente senza alcun effetto collaterale negativo. Il sistema di fototerapia Bioptron è un esclusivo dispositivo medico brevettato e clinicamente testato per il trattamento fototerapico. La tecnologia nel campo della fototerapia si basa su un'unità ottica molto speciale. Qualunque tecnologia di questo tipo, che può portare unicamente benefici alla salute in un modo non invasivo e privo di rischi al 100%, dovrebbe essere considerata un trattamento complementare adatto ad adulti, bambini e neonati. Questa caratteristica, insieme alla naturale bassa intensità, rende la luce Bioptron... La fototerapia Bioptron migliora la microcircolazione, rinforza il sistema immunitario, stimola i processi rigenerativi e riparativi dell'intero organismo, promuove la guarigione delle ferite e può alleviare il dolore o ridurne l'intensità. I nostri studi hanno evidenziato che la luce del dispositivo Bioptron è in grado di attivare il microcircolo nel giro di pochi minuti e quindi di aumentare significativamente le immunità antibatteriche, antivirali e antitumorali. La fototerapia Bioptron allevia o risolve i dolori lombari, grazie ai suoi effetti positivi sul microcircolo, ripristina l'ossigenazione dei tessuti danneggiati e favorisce la guarigione del disco vertebrale. Bioptron agisce anche sullo spasmo muscolare, migliora la mobilità della colonna nei tratti lombare e cervicale, abbrevia la morning stiffness. In medicina sportiva, la fototerapia Bioptron contribuisce non soltanto a curare i tessuti danneggiati, ma allevia anche vari tipi di dolore a carico di articolazioni, ossa, tendini e legamenti. Bioptron può anche essere usato nei casi di lesioni più gravi, come fratture ossee, lussazioni articolari o rotture del muscolo, nella riabilitazione per esempio dopo intervento chirurgico o immobilizzazione. La fototerapia Bioptron accelera la guarigione dell'atleta. Bioptron combatte i reumatismi. La fototerapia Bioptron aiuta ad alleviare il dolore e la disabilità in pazienti che soffrono di varie forme di reumatismo, per esempio osteoartrite, malattie autoimmuni, la più frequente delle quali è l'artrite reumatoide. Nei 40 paesi che lo distribuiscono, Bioptron è entrato a far parte delle procedure standard di trattamento adottate dai centri specializzati nella cura della poliartrite. È dimostrato che diversi tipi di lesioni trattate con la fototerapia Bioptron si rigenerano meglio e molto più velocemente rispetto alle ferite non trattate con la luce Bioptron. Nel 2003, al diciottesimo congresso internazionale della Federazione Diabetici di Parigi, abbiamo presentato i risultati di uno studio che confermava che i tempi di guarigione delle lesioni neurotrofiche prima dell'applicazione di Bioptron era di 24 settimane, che si riducono a 4 dopo il trattamento con Bioptron. Sulla base della nostra esperienza, possiamo raccomandare l'utilizzo di Bioptron nel trattamento di lesioni neuroischemiche del piede diabetico. Nel trattamento delle ustioni di primo, secondo e in parte di terzo grado, si possono abbreviare significativamente i tempi necessari alla rigenerazione e alla guarigione complete. Abbiamo osservato che l'autotrattamento quotidiano con Bioptron minimizza i segni dell'età e in alcuni pazienti ha ridotto in modo significativo il numero di lesioni acneiche. La sua luce è sicura e migliora notevolmente la condizione della pelle di chi la usa. Bioptron si è dimostrato uno strumento di utilizzo semplice e intuitivo nella cura quotidiana della pelle. Nella nostra lunga esperienza in radiologia e diagnostica medica, abbiamo rilevato straordinari risultati nei bambini in termini di sano sviluppo del sistema muscolo-scheletrico. È noto che la luce influenza la produzione di vitamina D, uno dei principali fattori responsabili della forza e dello sviluppo delle ossa. In quest'area di trattamento, la fototerapia Bioptron ha fornito eccellenti risultati. La fototerapia Bioptron è efficace nel trattamento di varie malattie dei bambini e dei neonati. La fototerapia Bioptron è molto efficace nel trattamento di un'ampia gamma di malattie respiratorie, raffreddore comune, mal di gola, bronchite. La fototerapia Bioptron può ridurre il dolore e l'infiammazione della gola e dei seni nasali, migliorando in tempi brevi la condizione delle vie respiratorie. Le ricerche scientifiche condotte dall'Istituto di Fisioterapia e Riabilitazione hanno dimostrato l'efficacia della fototerapia Bioptron nel trattamento dei problemi cutanei dei bambini, come dermatite atopica, acne e infezioni erpetiche. In campo pediatrico, la fototerapia Bioptron può coadiuvare il trattamento di vari tipi di tessuto cicatriziale e può essere usata nel trattamento complesso dell'asma bronchiale. Si pensa che la SAD sia causata da un disturbo della produzione di melatonina, l'ormone del sonno che funziona nel nostro cervello come un interruttore della luce, regolando i tempi di sonno e veglia. La produzione di questo ormone normalmente cala al mattino in proporzioni inversa alla luce diurna e si innalza la sera con l'avanzare dell'oscurità. Le persone affette da SAD, nelle quali i livelli di melatonina non calano al mattino, rimangono assonnate e abuliche per tutto il giorno. Il trattamento migliore per la SAD è l'esposizione alla luce. La fototerapia Bioptron aumenta i livelli di luce e riduce la produzione di melatonina, quelli il desiderio di dormire durante il giorno. Con l'acquisto di un dispositivo Bioptron, il cliente riceve uno spray sterile Oxy, prodotto cosmetico che contiene acqua pura arricchita di ossigeno puro in alta concentrazione. Spray sterile Oxy è particolarmente efficace in associazione ai prodotti di pulizia della linea Zepter Swissologica. Gli effetti combinati della fototerapia Bioptron e dei cosmetici Zepter sono stati provati recentemente da uno studio condotto dal nostro istituto. La fototerapia Bioptron ha mostrato di agire come potente attivatore, potenziando l'efficacia dei prodotti cosmetici anti-età. La sinergia della fototerapia Bioptron e dei cosmetici Zepter Cosmetics si è dimostrata in grado di accelerare e consolidare i miglioramenti di due importanti parametri anti-età della pelle, il tono e la densità. La luce Bioptron migliora il sistema di difesa dell'acute riducendo l'invecchiamento precoce della pelle, sostenendo il rinnovamento cellulare, stimolando il microcircolo, il flusso di elementi nutritivi e la sintesi di collagene ed elastina. Fondata nella primavera del 1988, Bioptron AG si dedica alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di strumenti e dispositivi medici, fra i quali il sistema di fototerapia Bioptron. Nel 1996 la società è stata assorbita dal gruppo Zepter, acquisendo così l'opportunità di utilizzare le migliori sinergie per la distribuzione del prodotto in 50 paesi nel mondo. Il sistema di fototerapia Bioptron è stato sviluppato in collaborazione con dipartimenti di ricerca di università, cliniche e studi specialistici. Testiamo e ottimizziamo costantemente i nostri prodotti, attraverso la ricerca tecnica e medica, e attraverso gli studi scientifici condotti da istituzioni indipendenti. Un team di professionisti che svolge sempre un lavoro eccellente, con innovazioni continue ed ottimi risultati. Garantiamo la qualità attraverso un attento controllo in ogni fase della produzione. La qualità è il nostro primo obiettivo. Bioptron AG ha istituito un sistema di gestione della qualità conforme ad ISO 9001. Noi sappiamo cosa può fare la fototerapia Bioptron per voi e per la vostra famiglia. Ora sicuramente lo sapete anche voi. Affidatevi all'esperienza che abbiamo maturato nel corso degli anni. Milioni di utenti soddisfatti da cliniche e istituzioni mediche di tutto il mondo utilizzano i dispositivi Bioptron. Vi ho presentato solo alcune delle possibilità che possono offrirvi i dispositivi di fototerapia Bioptron. Non dimenticate, Bioptron, leader nella fototerapia. Abbiamo visto appunto nel video l'utilità del Bioptron. Fatemi aggiungere semplicemente due parole. In occasione del secondo congresso di medicina estetica e anti-age che si è tenuto lo scorso ottobre a Parigi gli è stato riconosciuto il premio come miglior dispositivo fototerapico legato proprio all'antietà. Per cui è un prodotto non validissimo ma di più. Diciamo che la bellezza è sempre stato un valore molto importante sin dai tempi antichi perché era come un tesoro. Basti pensare anche alla bellezza di Cleopatra che è sempre stata decantata. Anche Socrate diceva che la miglior raccomandazione fosse proprio quella della bellezza fisica. Lo scopo del Bioptron è proprio quello. Riuscire a mantenerci giovani sia dentro che fuori proprio per permetterci di arrivare a Kentannos tranquillamente. Diciamo che il processo di invecchiamento inizia già da vent'anni. Io adesso mando una slide. Iniziamo già da vent'anni ad avere i primi segni del tempo. Per cui questi segni già a trent'anni risultano delle rughe più profonde. A 40 iniziano a comparire le prime macchie proprio dovute all'età. Si ha una riduzione sia di collagene che di elastina che sono due proteine importantissime per la tonicità e la luminosità della nostra pelle. A 50 anni, tra i 50 e i 60, queste rughe sono molto più profonde. La pelle risulta molto secca. Compaiono anche i primi capillari che poi danno origine all'antiestetica cuperose. Noi riusciamo ad agire a livello cutaneo per ridare splendore alla nostra pelle. A peggiorare la situazione si aggiungono i radicali liberi. Perché? Perché attaccano le cellule e il DNA, compromettendo le loro funzioni e quindi danno origine a gravi malattie oppure accelerano il processo di invecchiamento. In che modo la fototerapia Bioptron può aiutare il processo di invecchiamento? Abbiamo visto che migliora la microcircolazione grazie alla stimolazione dei nuovi vasi sanguigni per cui si ha una maggior ossigenazione delle cellule, aiuta la produzione del collagene e dell'elastina per cui renderanno la nostra pelle più tonica ed elastica, migliora anche l'incarnato e diciamo che accelera anche tutti i fattori cosmetici legati ai vari prodotti perché permette di assimilarli molto più in profondità. La Zepter ha studiato una linea anti-età della Swissological ed è un trattamento completo, antirrughe, rassodante, composto da quattro prodotti. Abbiamo il siero idrolifting, la crema, sempre con un effetto lifting, un gel contorno occhi e poi una crema multirigenerante. Sono prodotti assolutamente sicuri proprio perché sono ipoallergenici e non contengono parabeni. Che cosa sono i parabeni? Sono delle sostanze chimiche che molte aziende utilizzano come conservanti per preservare le creme dei batteri. Il problema è che questi parabeni vanno assorbiti dal nostro sistema endocrino ed è stato dimostrato che su 19 donne affette da tumore mammario su 18 di loro sul loro tessuto è stata riscontrata la presenza di parabeni. Basta pensare al semplicissimo deodorante per le ascelle che tutti noi utilizziamo. Un parabeno straconosciuto è l'alluminium, per cui state attenti quando andate a comprare il deodorante. Anche se lo comprate in farmacia è il deodorante più costoso del mondo. Se c'è l'alluminium state molto attenti proprio perché è veramente dannoso. Conosciamo un attimino questi quattro prodotti. Abbiamo il siero idrolifting che ha un'azione rassodante antirughe. È un siero ricco, concentrato, attiva il collagene, contiene acido ialuronico. Serve per idratare e rivitalizzare la pelle in profondità e proteggerla dai radicali liberi. Poi c'è la crema, sempre idrolifting, ed è idratante e liftante. Serve a riattivare il collagene. È un potente antiossidante. È ricco di vitamina C ed E. Rigenera e rivitalizza la pelle rendendola più compatta, più liscia e visibilmente più sana. Poi passiamo alla crema multirigenerante. Ha un effetto tensore immediato. È una crema ricca di grassi insaturi, sono gli Omega 3, 6 e 9. Nutre e protegge, dà sollievo alla pelle secca e molto secca. Ha un alto potere idratante e rigenerante. E contiene Voluform, che è un ingrediente rivoluzionario, che rimpolpa il contorno del viso e riempie le linee sottili. Appiana le rughe, donando un aspetto giovane e rigenerato. Ed è una valida alternativa all'ipofilling. Ovviamente non è invasivo come un trattamento estetico. Poi abbiamo il contorno occhi, idrocellulare. È un potente attivatore del collagene. È sempre ricco di Omega 3, 6 e 9 e ricco di vitamina C ed E. E svolge un'intensa azione rivitalizzante, rassodante e liftante. Offre un'idratazione immediata e riduce visibilmente le rughe, tonificando i tessuti rilassati a causa della perdita di elasticità. Riduce oltretutto anche le occhiaie. Io adesso cedo la parola alla signora Padolano. Prego. Allora, innanzitutto mi presento. Sono la signora Maria Luisa Padolano. Collaboro con la ZEPPER da un bel po' di tempo. Il mio incarico oggi è stato quello proprio accettato veramente con tanto piacere. è quello di fare una prova prodotto inerente appunto a questa fantastica linea. Io adesso chiamerei qui vicino a me, perché mi dovrò alzare per fare questa prova prodotto, e chiamerei appunto la signora Rita, se si può accomodare gentilmente. La signora Padolano ci spiega anche come utilizzare le creme, perché è importante anche sapere come dobbiamo andare ad applicare le creme, perché molte volte siamo di corsa, spalmiamo la crema a casaccio, e molto spesso è più dannosa che altro. Invece le creme vanno applicate in una determinata maniera. La signora ci spiegherà esattamente come. Faccio il giro, tengo io il microfono. Grazie, molto gentile. Allora, è molto importante innanzitutto idratare il nostro viso. Siamo abituati così ad applicarci la crema velocemente, tanto per uscire, per far sì poi di applicare un fondotinta oppure una cipria. Bene, oggi vi faccio vedere il passaggio della linea Swiss Logical. Innanzitutto, è una lozione molto importante che è questa. I nostri prodotti sono indicati a tutti i tipi di pelle, per cui anche su una pelle che ha l'inestetismo, in questo caso, di macchie. Questo ve lo garantisco perché li sto usando io e sto avendo proprio dei risultati eccezionali su una macchia perché insomma ho 60 anni, per cui incomincio anch'io a entrare nel percorso della terza età. Però sono sempre del parere che è bene invecchiare con un certo criterio e invecchiare con dolcezza. Questa è una cosa che ci tengo sia fisicamente che anche l'aspetto del viso perché il viso è il nostro biglietto da visita, in poche parole. Allora, da come inizio? Inizio da che cosa? Da usare, di solito, si usa un latte, un tonico. Una cosa molto importante, io non sono a fare una pulizia a viso perché quello lo lasciamo fare ai centri estetici, ok? Perché? Perché possiedono dei macchinari dove danno vaporizzazione al viso, dove vanno a dilatare i pori e oltretutto vanno anche ad intervenire l'estetista sui puntini neri, sui comedoni e via dicendo. Io inizio usando il nostro Oxy. Come è questo il prodotto? È il prodotto che si usa con il Biotron ed è praticamente arricchito di ossigeno e acqua per cui mi va a dare la giusta detersione sul viso della signora Rita. È tranquilla signora Rita? È in buone mani? Sì, buonissima. Allora, facciamo un applauso alla signora Rita, visto che si è offerta. Allora, andrò a applicare, questo per fare proprio una vera e propria dimostrazione, andrò a applicare i nostri prodotti solo su una parte del viso. Perché? Perché dopo che ho fatto la pulizia andrò a applicare alla signora per cinque minuti il nostro dispositivo Biotron. Questo per darvi in evidenza subito i risultati di questa fantastica, veramente fantastica, innovativa oltretutto, perché è conosciuta in tutto il mondo. e io sono fiera insieme alle mie colleghe che anche il Biotron finalmente è arrivato in Sardegna. Perché io non sono sarda, però voi sardi siete delle persone meravigliose e avete tutto il diritto di conoscere questa fantastica macchina. Allora, iniziamo. Tranquilla, ok. Allora, andrò a applicarle da questa parte. Allora, lo spruccio. Ecco, questo cosa fa? Perché ho sprucciato l'Oxy? Perché in questo momento sul viso della signora Rita i nostri pori si aprono, si dilatano. Questo per far sì che riceve uniformemente anche tutti i prodotti che andrò ad applicare. Cosa andrò a applicare? Andrò a applicare un siero rigenerante, un lipo lifting, poi il suo contorno occhi che è molto importante. In più, visto che c'è anche sia la crema, lipo lifting, perché c'è a cliente a cliente, no? C'è la cliente che preferisce usare il siero, c'è la cliente che preferisce usare la crema. Io, invece, alla signora Rita, userò proprio la crema rigenerante. Bene, adesso il viso è pronto per ricevere che cosa? Il nostro siero. Ed è questo, ve lo presento. Eccolo qua. Questo è il nostro siero. È un siero che va usato sia di mattina che di sera. Va applicato in un modo che adesso ve lo farò vedere, perché va massaggiato sulla mano delicatamente per riscaldarlo e poi andarlo a distribuire nella zona del viso. Ovviamente va distribuito dal basso verso l'altro. idem anche per i massaggi che adesso vi faccio vedere, ok? Ne basta pochissimo, perché è molto, molto concentrato. In questo modo lo sto riscaldando e lo vado a distribuire. e lo vado a distribuire. In questo modo ho sento Il massaggio va fatto delicatamente. Tengo a precisare questo perché andando a fare un massaggio un po' aggressivo, tra virgolette, non va bene. Perché? Perché la nostra pelle ci può rifiutare completamente il prodotto, per cui il massaggio va fatto dal basso verso l'alto, con dei piccoli movimenti delicati. Allora, adesso aspetto qualche secondo per far sì che la pelle assorba bene il nostro siero e vado a passare a applicare il nostro contorno occhi. Ecco, questo è il nostro contorno occhi. E' un contorno occhi, anche questo che va usato al mattino per far sì di lavorare praticamente sulle occhiaie e anche sulle nostre zampe di gallina. Perché? Perché va a stendere le nostre rughe. Voi sapete benissimo che ci sono rughe d'espressione e come ha detto la mia collega Fiore, ci sono la prevenzione di invecchiare bene, come vi ho detto prima. Cioè, è meglio prevenire che curare. E' un contorno occhi in crema, è molto delicato e va a agire appunto sulla ruga. Adesso vi faccio vedere come va applicata. Occhio, anche questo è molto concentrato, per cui ne basta pochissimo. Non sprecate il prodotto perché è inutile. Ne basta proprio una minima quantità. Ok? Sempre sul palmo della mano. Vado a picchiettare delicatamente. No, deve tenere gli occhi chiusi, per favore. Oltretutto, è molto importante il nostro contorno occhi perché massaggiandolo delicatamente, sempre, come vi ho spiegato prima, riceve uniformemente il trucco. Allora, il massaggio è un massaggio che bisogna fare rotatorio scaricando, vedete, vicino all'orecchio perché qui abbiamo degli scarichi. Ok? Oltretutto, se la cliente ha delle zampe di gallina oppure, si chiamano così, però, oppure delle piccole rughe è bene fare un massaggio a forma di otto, vedete? E poi scaricare nell'interno. È facile, non è difficile. Poi davanti allo specchio ognuno di noi lo vede automaticamente. Questo, fino a completo assorbimento. Adesso chiediamo alla signora Rita che sensazione ha sul viso. Fresca e morbida. Si sta addormentando? No, è bella sveglia, vero? Bene, lo lasciamo agire per un po', ok? E poi, come vi ho spiegato prima, vado a passare, appunto, ad applicare la multiregenerante, la crema della Swiss. Allora, essendo prodotti molto, molto pregiati, una piccola raccomandazione. La crema va sempre presa con le mani detesse, ok? E non fa entrare anche molta aria. Per cui, se ne prende una minima quantità, si chiude subito il prodotto, lo si adagia sul nostro palmo della mano e poi andiamo a distribuirlo, sempre dal basso verso l'alto. Io adesso un consiglio. Quando siete davanti allo specchio, la crema, passatela anche al décolleté, ok? Facendo questo movimento. Io adesso, perché ne devo fare solo metà, mi viene un pochettino, è un po' difficile, perché ho la sensazione sempre di usare le due mani, no? Per fare il massaggio completo. Per cui è molto importante, vedete, questo massaggio e poi andare sempre verso l'alto. Una volta che l'ho distribuito, sempre il solito movimento, e andiamo a massaggiare. Vedete, se usavo l'altra mano, dovevo fare questo movimento. Si stende molto bene la crema, dà subito un effetto di rilassamento, veramente, perché agisce anche la crema, non solo con le vostre manine andando ad applicarle sul viso, ma dà proprio questo effetto tensore. Ecco. Ecco qui. una volta fatto questo adesso alla signora Rita gli applicheremo per cinque minuti il nostro biotron. ragazzi. Grazie a tutti. Volevo chiedere alla signora Rita, gli occhi chiusi, per favore, così, bella, rilassata, tanto può parlare. Cosa ha avuto come sensazione del massaggio? Sento la crema molto fresca, molto morbida mentre la passava, molta freschezza. E con il tatto, come toccandosela, come la sente? Liscia, morbida. Va bene, grazie. Sì. Nel frattempo che la signora Rita si fa una specie di bagno di luce, diciamo così, vorrei farvi conoscere la nostra crema anticellulite. Visto che siamo in procinto di andare al mare, quale prodotto migliore? Penso che un pochino tutte abbiano qualche piccolo inestetismo. Io sì. Allora, è un trattamento molto efficace, sempre studiato dalla tecnologia svizzera, è un prodotto veramente innovativo. oltretutto considerate che è un prodotto studiato scientificamente ed è stato dimostrato come sia molto più efficace della crema numero uno che tutti noi conosciamo, tanto per dire la somatoline. Però, sinceramente, io personalmente la somatoline non riesco ad utilizzarla perché sono sempre di corsa, ok, la mattina faccio la doccia, passo la crema e quindi star lì a massaggiare una crema molto molto densa mi faceva perdere tanto tempo per cui alla fine non la utilizzavo mai. La nostra crema, invece, è molto morbida al tatto, ha un odore gradevole ed è semplicissima da applicare per cui si assorbe molto facilmente e non fa perdere neanche tempo. Considerate che già in due mesi di applicazione i risultati sono veramente fantastici, ok? Infatti, se voi guardate anche la slide, adesso la tiriamo un po' su, si nota che praticamente con diverse applicazioni, ovviamente non è che la crema faccia il miracolo, però, se voi guardate, inizialmente la prima immagine presenta delle zone d'ombra abbastanza importanti. Dopo quattro settimane queste zone d'ombra si sono ridotte notevolmente, dopo quattro settimane sono praticamente, qui parliamo già dopo due mesi di trattamento, la slide è un po' sbagliata, vedete che le zone d'ombra sono praticamente quasi nulle, è ovvio che dipende anche dall'estensione della cellulite. Vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono senza parabeni, per cui sicuri e adatti a qualsiasi tipo di pelle. Alla base della nostra crema, come principi attivi, c'è la caffeina, che tutti noi sappiamo per le creme anticellulite è il prodotto molto molto importante, proprio perché va a stimolare la circolazione e quindi ci permette di andare anche a bruciare i grassi, drena, rassoda e ha un'azione idratante e antiossidante. La nostra signora Rita sta sempre facendo il suo bel trattamento, bella rilassata. Adesso come finisce il trattamento, vedremo i risultati in primis. Abbiamo finito, adesso la facciamo vedere allo specchio, così lei stessa ci dirà che ne pensa. Mi avvicino. Allora, le sue impressioni? Bellissimo. Sorride, sorride, sorride. Sì, è bello. Come si sente il viso, che è molto importante, perché tra il trattamento e poi il Biotron? Molto liscio, idratato, luminoso. Sì, bello. Adesso la facciamo girare, la lasciamo tutto il giorno solo con metà viso trattato sia con i prodotti che il Biotron. No, poi più dopo la signora faremo anche dall'altra parte il trattamento. Grazie, grazie. Noi la ringraziamo, di vero cuore che ha partecipato con noi e ha fatto anche da modella. Grazie signora. Io facciamo un applauso alla signora, grazie. Grazie a tutti voi per aver presenziato la nostra dimostrazione. Vi invitiamo a visitare il nostro stand in modo da avere ulteriori delucidazioni sia sul dispositivo sia sulla nostra cosmetica. Grazie ancora. Buona giornata. Anch'io mi associo alla mia collega e vi ringrazio per la vostra attenzione e anche la vostra partecipazione. In bocca al lupo. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.